All'indomani della protesta dei residenti e dei commercianti di via Santa Margherita che disponendosi sul marciapiede all'angolo del canto alle tre gore hanno di fatto ostacolato il passaggio degli autobus siamo andati a vedere cosa succede in questa strada a pochi metri dal Duomo quando i riflettori sono spenti. Il traffico c'è e anche parecchio e non poteva essere altrimenti perché via Santa Margherita è diventata la principale via d'accesso a Piazza Mercatale l'imbuto dove viene convogliato tutto il traffico che proviene dal nord e dal Serraio. Da qui passano ben quattro lamme più gli autobus che servono alla Val di Bisenzio nonostante la strada sia stretta. 400 autobus al giorno. Le ha contati Osvaldo Brizzi, unico artigiano rimasto nel centro di Prato e organizzatore della protesta. Per lui le alternative a via Santa Margherita ci sono, basta volerlo. Le alternative ci sono, le lamme potrebbero passare da Piazza Sant'Agostino, girare a destra, invertendo il senso, passare davanti alla ex cassa di risparmio San Francesco alla stazione. E i bus di linea, una volta scaricati i passeggeri alla stazione del Serraglio, possono benissimo passare per il ponte latino e andare alla stazione. Traffico e inquinamento atmosferico alle stelle ma anche spaccio di droga anche in pieno giorno. Una terra di nessuno, tanto meno dei pratesi. All'amministrazione comunale che ieri si è detta disponibile a ricevere i residenti, Brizzi dice no, perché è l'amministrazione che deve venire in via Santa Margherita a rendersi conto di persona cosa significa vivere e lavorare qui. Un invito che tempo fa fu fatto al prefetto ma a cui non seguì alcuna visita. Se siete disponibili per incontrarci, però noi vogliamo che l'assessore o il sindaco vengano loro qui. E possibilmente venerdì pomeriggio, dalle 5 alle 7 quando c'è maggior spaccio. E se vogliono possono portare anche una sedia per mettersi a sedere all'angolo per vedere se gira il bus o no.